Il Lanciano continua a preparare la trasferta di Bari. Al San Nicola si giocherà sabato alle ore 18. Oltre al portiere Nicolas, sostituito ancora da Aridità, sarà assente piccolo, mentre in difesa saranno fugati. Nelle prossime ore i dubbi su Trest, nel caso è pronto a Menta. C'è la voglia di sfatare quello che appare come una specie di tabù del San Nicola, stadio in cui i rossoneri non sono mai riusciti a vincere. scotta ancora quel 4-3 patito due anni fa nella gestione Gautieri, dopo aver dilapidato tre gol di vantaggio. È uno stato d'animo alto, veniamo da tre punti importanti, abbiamo affrontato una squadra forte come il Brescia, anche se la classifica dice alto, però è uno giocatore di qualità, quindi siamo pronti per andare a affrontare quest'altra partita contro il Bari, dove sappiamo di affrontare una squadra che viene da due partite negative e quindi avranno sicuramente voglia di riscattarsi. Il loro stadio sarà sicuramente pieno anche con il fatto che la loro società ha abbassato il costo dei biglietti per attirare gente, quindi queste sono le loro due armi, però noi dovremmo rispondere presenti dal primo minuto e cercare di portare il risultato a casa. Bari-Lanciano sarà diretta dall'aziale Claudio Gavillucci di Latina, che guarda un po', diresse al San Nicola anche lo scorso anno. Il Bari vinse 1-0 e Nadarevic, lo ricorderete, sferrò un morso a una gamba di Falcinelli e venne espulso. E dopo gli allenamenti guidati dal suo vice Andrea Tarozzi, Roberto D'Aversa, di ritorno da Empoli, ha ripreso il timone delle operazioni. Intanto eppurazioni nel Brescia. Dopo la sconfitta di Lanciano esonerati, l'allenatore Salvatore giunta il DS Andrea Iaconi, abruzzese, danni a Brescia. Sulla panchina torna ancora una volta Alessandro Calori, mentre il nuovo DS è Renzo Castagnetti.